Jung è noto perché si è occupato di tutta la storia dell'umanità in tutte le sue sfaccettature, soprattutto della storia delle religioni. E a partire dal concetto che nelle storie delle religioni si individua esplicitamente questa dimensione per cui l'uomo è ragione e la divinità o quello che gli uomini pensano sia la divinità è la simbolica della follia. Abbiamo citato poc'anzi Eraclito ma di scene di questo genere ne abbiamo in ogni dove, c'è una scena nell'Iliade dove Agamennone e Achille entrano in conflitto perché Agamennone è sottratto ad Achille la sua schiava e quando Agamennone la restituisce dice ad Achille ho usato violenza, in greco si dice ate, ma tu conosci quante sono le violenze che gli dei infliggono nella mente degli uomini? E Achille risponde sì conosco e so che il Dio infligge nella mente degli uomini le violenze con cui gli uomini si scatenano, quindi la violenza viene sempre attribuita alla divinità perché è struttura dissolvente alla comunità. Anche Euripide nelle Baccanti ci racconta che quando Dioniso entra nella città di Tebe il sovrano cessa di essere il re, il palazzo reale colassa, le donne si comportano come menadi aggettando il tirso sul monte Citareo, i vecchi si comportano come bambini, il coro dice non possiamo allontanare Dioniso e poi si risponde nessun uomo può allontanare il Dio, bisogna aspettare che il Dio si congedi da solo dalla città e così quando Dioniso abbandona Atene nella città di Atene torna all'ordine. Si pensi che ancora nell'Ottocento nelle diagnosi psichiatriche dopo la firma del medico che faceva la prognosi congedando il malato accanto al suo nome scriveva D.C. Deo concedente. Ecco la follia è questa dimensione preumana che ciascuno di noi conserva nel suo fondo in cui sono in qualche modo contenute tutte le possibili nostre esistenze non sviluppate allo stato primordiale potenzialmente espressive che caratterizzano persino i nostri stessi umori. Noi non siamo identici noi stessi dalla mattina alla sera, ma secondo che qualcuna delle nostre personalità latenti prenda o non prende il sopravvento. Talvolta siamo come i bambini, talvolta siamo saggi come i vecchi, talvolta siamo femminili, talvolta siamo ipermaschili, cioè ci sono queste personalità latenti dentro di noi che colorano i nostri umori finché siamo normali e che si impossessano della nostra personalità quando l'io colassa. Ecco questo è lo scenario in cui si muove Jung, uno scenario quindi che ha frequentazione con la follia e che amplifica il concetto di inconscio, non solo sessualità e aggressività per l'economia della specie, ma luogo dove abita una popolazione di nostre possibili esistenze non espresse che trovano espressione e nelle condizioni del nostro umore e nei casi gravi nella follia quando si esprime.